Sono gli stessi autisti del tram ma anche gli automobilisti, pedoni, ciclisti che filmano e fotografano quello che sembra essere la nuova e pericolosissima moda tra i giovani. Inforcare la bicicletta o salire sullo skateboard, farsi trainare dal tram e staccarsi quando si è giunti a destinazione, come vediamo in questo video girato tra il Bassanello e Prato della Valle. Così non si fa fatica, non si suda, si prova l'ebbrezza del pericolo e piccolo particolare si rischia di farsi davvero male oltre che di prendere una multa assalata per un comportamento del tutto contrario alle regole. Pericolo ingigantito dalla presenza della rotaia nella quale si può incastrare la ruota della bici con conseguenze facilmente immaginabili. Intanto a bordo di un autobus episodio di violenza con cinque controllori affrontati da tre giovani stranieri, un libico e due tunisini minorenni. Sprovvisti di biglietto hanno aggredito i due controllori donna facendole finire a terra. Sono stati denunciati dalla polizia per violenza pubblico ufficiale e lesioni in concorso.